La birra di oggi è una birra italiana, birrificio Menaresta, siamo in Brianza ed è la Shigera. Per prima cosa, come al solito, vediamo una scheda tecnica di questa birra. Come dicevo appunto, il birrificio è Menaresta. Siamo quindi in Brianza, per essere precisi a Carate Brianza, provincia di Milano. Il nome di questa birra è appunto Shigera. Lo stile qui è da capire perché, come dicono gli stessi produttori, la birra è una via di mezzo tra una Witte, quindi una Blanche, e una Weiss. E poi vedremo bene perché. Il grado alcolico di questa birra, 4,5 gradi. Il prezzo, io questa, vabbè, l'ho acquisita in un pub, ma vedo online, in un beer shop, la mettono a 3,55 euro, la bottiglia da 33. Il bicchiere suggerito, ero un po' in dubbio, ma direi in questo caso un Tumbler, che è quello poi tradizionalmente utilizzato per le Blanche belghe, e non si tratta di un primo assaggio. Allora, da dove iniziare? Perché ci sono diverse cose interessanti su questa birra. Innanzitutto lo stile, forse, perché appunto viene indicato come vita di mezzo tra una Witte, quindi una Blanche, e una Weiss. Il termine Witte e Blanche sono più o meno sovrapponibili e indicano comunque le birre di frumento alta fermentazione del Belgio, a differenza dalle Weiss, che sono birre di frumento tradizionalmente tedesche. A grandissime linee le Blanche e le Witte sono più sullo speziato, mentre le Weiss sono più sul fruttato. Molte, soprattutto quelle un po' più commerciali, che si trovano più facilmente nei vari supermercati, grande distribuzione, alcune finiscono proprio in un bananoso molto potente, ed è un po' la caratteristica di alcune di queste Weiss. Questa è una via di mezzo perché leggo sul sito del produttore che di base sono stati utilizzati gli ingredienti e la ricetta per costruire appunto la ricetta di una Blanche, ma utilizzando un lievito per le Weiss. Le Weiss, anche se sono tedesche, in Germania tradizionalmente ci sono birre a bassa fermentazione, le Weiss comunque utilizzano cerevisie, quindi un lievito per alte fermentazioni. Però appunto gli lieviti utilizzati per le Weiss vanno di solito appunto sul fruttato, mentre quelli per le Blanche vanno un po' sullo speziato. Quindi è una via di mezzo tra queste due birre. Altra cosa interessante di questa birra è sicuramente il nome. Shigera infatti nel dialetto milanese indica la nebbia, e ovviamente questa birra, essendo una birra bianca, poi come le Blanche, come le Weiss torbida, c'è quindi un chiaro riferimento alla nebbia. Ammetto però che il termine Shigera non è un termine che mi capita di sentire e di utilizzare abitualmente, ma a mia discorpa devo precisare che è un termine tipico del dialetto milanese, quindi circoscritto principalmente nella zona di Milano, forse si utilizza anche nelle zone del dialetto cosiddetto laghe, cioè verso l'eco con quelle parti lì. Ma essendo io lodigiano, e lodigiano è una piccola zona a sud di Milano, e purtroppo quando dico questa cosa la città di Lodi è tristemente famosa per episodi di cronaca nera o episodi di politica più o meno di quel colore, ma prima che spegnate il video vi devo rassicurare non tutti i lodigiani sono bigotti conservatori, come tendenzialmente si possa credere. Ci sono anche lodigiani a cui l'idea di democrazia è suscita ancora un discreto interesse, e ovviamente mi ritengo di far parte di questa categoria, ma appunto dicevo nel dialetto lodigiano ho fatto anche delle ricerche su testi autorevolissimi come questo fantastico dizionario della grammatica e del lessico del dialetto lodigiano e ho appunto appurato che è un termine tipicamente milanese, che quindi è circoscritto appunto questa zona. In ogni caso il suo letto della bottiglia è spiegato molto bene, infatti dice C'è la nebbia nel parlato milanese, per noi in Brianza è quella mai così fitta che sale dai campi e dalle rogge e si riesce sempre a vedere la strada. Stando sempre sulla grafica della bottiglia, beh, sul tappo c'è il logo di Menaresta, il tappo rosso con il logo di Menaresta e l'anno di fondazione 2007, mentre nella parte ovviamente anteriore dell'unica grande etichetta che fa tutta la circonferenza della bottiglia, c'è il logo dei Retronebbia, molto bella questa cosa, la scritta Shigera freschezza nebbiosa, grado alcolico, volume, va bene le solite cose, birra pastorizzata non filtrata, è riportato birra speziata tra una Witt e una Weiss, infatti negli ingredienti c'è acqua, malto d'orzo, malto di frumento, quindi se c'è malto di frumento potrei pensare che allora più che gli ingredienti per una Blanche siano gli ingredienti per una Weiss, perché ricordate la grossa differenza che il frumento nelle Blanche non è maltato, nelle Weiss è maltato, malto di segale, lupo, lo lievito, spezie. Altra cosa interessante che c'è sulla etichetta, sull'altro lato, sono riportati gli Ibu e i gradi plato. Gli Ibu sono un'unità di misura che sta a indicare la quantità di amaro di questa birra e i gradi plato si rifanno alla densità del mosto. Riguardo questi valori, questi indici, ci sarà una puntata apposta che stavo preparando, proprio per fare un po' di chiarezza tra Ibu, tra amarezza, calcolata come Ibu, come amarezza percepita, l'attenuazione, appunto i gradi plato, tutta questa cosa qui, però metterò eventualmente poi una scheda in questo video per rimandare un po' quel piccolo approfondimento che sto scrivendo proprio in questi giorni. Direi che ho parlato abbastanza e quindi può essere arrivato il momento per aprire la bottiglia. Ok, mi fermo perché resta solo il fondo che è abbastanza torvido. In questo modo riusciamo ad avere la birra limpida. Come sempre, il fondo può essere versato in un altro bicchiere per la degustazione, eccetera. Se volete appunto andare a vederevi un po' di motivi e modi per degustare i lieviti a parte, vi rimando sempre alla puntata della Saison Dupont in cui appunto mi ero soffermato un attimino a parlare del servizio che prevede la divisione di birra dal fondo di lieviti e degustazione di lieviti. In ogni caso, tornando alla nostra birra, allora la schiuma, partiamo sempre con l'analisi visiva, una schiuma non abbondante, non eccessivamente persistente, irregolare, di colore bianco. La birra è un bel color paglierino, non particolarmente lucente e si vede già una elevata carbonazione, quindi una buona frizzantezza, che è tipica effettivamente di questi due stili, sia delle Weiss, sia soprattutto delle Blanche. Passiamo quindi al naso. Allora, non è elevata l'intensità sicuramente, ma è molto complessa. Le due cose che si riescono a distinguere, sicuramente c'è la prima cosa che arriva, uno speziato, non saprei entrare nei dettagli, potrebbe essere pepe, potrebbe essere anche coriandolo, però sicuramente c'è uno speziato e un pochino, un pochino si sente, meno dello speziato, ma facendo attenzione si sente, sicuramente c'è del fruttato, ma anche in questo caso non potrei scendere nei particolari, cioè non potrei andare oltre il generico descrittore fruttato. Come al solito, quello che mi faccio nella mente è provare a passare un po' tutte le macro-categorie dei descrittori olfattivi, se vi può aiutare la famosa ruota con tutte le macro-categorie o comunque se avete presente la tabella che ho linkato anche nel video sulla degustazione, quindi pensare un po' alle famiglie grandi di descrittori olfattivi e vedere cosa c'è, affumicato o no, fruttato o sì, erbace o no, e quindi facendoli passare si riesce un po' a farsi questa idea. In questo modo, secondo me, a me arrivano queste due, principalmente descrittori. Passiamo quindi al palato. Allora, devo dire che bevendola in bocca ricorda molto molto più una vice che una blanche. Se al naso ci faceva pensare più forse a una blanche per la speziatura, in bocca potrebbe essere benissimo una vice. Quindi che cosa c'è? Ovviamente l'apertura, come al solito, non è molto mara. C'è subito un discreto acido e una leggerissima astringenza. Credo potrebbe essere dovuto dalla segale, ma è molto piacevole. La carbonazione si sente, visto che parliamo di astringenza, l'altra grande sensazione boccale in bocca è la carbonazione, che però è perfetta, secondo me, per queste birre che, nonostante il nome e la nebbia facciano pensare al periodo estivo, secondo me, sono perfette in questo periodo estivo perché sono molto dissetanti. E, appunto, dopo queste sensazioni iniziali, cosa arriva in bocca? Arriva sul retrogusto prima tanta frutta e qui sì che si sente davvero questo buonissimo fruttato e dopo, ma dopo un po', cioè lo sentivo quando già avevo incominciato a parlare, incomincia ad arrivare un po' tutto l'amaro del luppolo. Non saprei dire quali luppoli, sicuramente luppoli solo da amaro, luppoli probabilmente europei, ma è un buon amaro che chiude bene questa birra e, appunto, secondo me è la birra perfetta per il periodo estivo perché è molto fresca, è molto facile da bere, è abbastanza delicata come birra, ovviamente, non ha un corpo eccessivamente leggero, ma non è neanche una di quelle birre da masticare, quindi che bisogna impegnarsi per riuscirle a bere. Questa, quindi, è la freschissima Shigera di Menaresta. Scolo! th amigo Lady Lregge Alla in Tu R Are ll L